L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha ricevuto nelle pause dei lavori dell'Assemblea tre delegazioni. Martedì 18 la CNA Piemonte e l'associazione da 0 a 6 che hanno consegnato una petizione con le relative firme per chiedere di aggiornare la normativa regionale sui baby parking. Il 19 settembre sono state ricevute una delegazione di associazioni venatorie sulle prospettive per l'attività della caccia in Piemonte e una rappresentanza del Consiglio parenti dell'Istituto Opera Pia Lotteri sul futuro delle strutture.